Il generale Mario Mori è uno dei protagonisti della storia italiana di questi ultimi 30 anni perché la storia della lotta alla mafia si intreccia indissolubilmente con la storia nazionale, politica, sociale del paese intero. Il generale Mario Mori dopo circa 20 anni di processi è stato assolto da tutte le accuse, tra queste anche la presunta trattativa Stato-mafia. Proprio a seguito della recente assoluzione in Cassazione ha pubblicato la sua memoria della quale parlerà a D'Arezzo nell'incontro organizzato dalla Biblioteca Comunale in collaborazione con la Fondazione Guido D'Arezzo in programma venerdì 30 giugno alle 17.30 al Teatro Pietro Aretino. Noi abbiamo letto il suo memoriale in esclusiva per il Sussidiario.net e da lì partiremo nell'intervistarlo. Sarà presente anche un giornalista come Matteo Giusti che porrà domande al generale Mori. In questo memoriale Mori racconta anzitutto la sua vita professionale e quindi la sequela di processi cui lui è stato sottoposto e che hanno messo a repentaglio la sua integrità e l'onore personali e da cui è uscito non solamente indenne, ma è uscito con due sentenze che lo riconoscono pienamente innocente. In questi memoriali dunque il generale Mori non solo racconta la sua vita personale e spiega e argomenta la sua innocenza, ma getta anche degli squarci di luce interessanti in certi momenti anche inquietanti proprio sulle vicende che lo hanno caratterizzato.